E intanto Fede è ritornato a Bastia e va direttamente al teatro aperto dove il nono Faustino si intratchiene con gli altri amici Filiberto e Combani. A voi firmato. Tira su. Tira su che c'è il freddo. Oh sono tornato per te. Non ho saputo questa notizia, purtroppo una triste notizia, io ho portato un mazzi di fiori perché gli esatrizza più l'uccello. Ecco guardi perché è defunto il cincillato, è l'accomorazione degli uccelli. La domanda sorge spontanea. Sì mi dica. In questo giornino che sono mancato come si è comportato? Malissimo. No è vero, è vero. Non è vero, si è comportato benissimo. Benissimo o malissimo? Un avvocato difensore. No benissimo. A Pasqua benissimo. Adesso? A oggi malissimo. A Pasqua? Benissimo. Oggi? Malissimo. Pasqua? Malissimo. No Pasqua. Va benissimo. È vero no? E di chi imbecillo così? Ma non dico ma buon anno. Questo è il teatro all'aperto, gratuito ed improvvisato. Senti Mr. Sari come lo sa? Massimo Bolli che dice? È fiore in bocca. È fiore in bocca. Fermo. Ma questo tira. Tira i calci. È Bruslino.